In una tranquilla comunità dell'Ohio vive una famiglia che incarna perfettamente il sogno americano. Carriere di successo, bambini felici e una comunità amorevole. Ma cosa si nasconde dietro a questa facciata di felicità? Quali segreti e tensioni possono trasformare un'esistenza serena in una tragedia travolgente? Un mistero recente che ha scosso un'intera comunità e ci fa riflettere. Conosciamo davvero chi ci avvicina. Benvenuti passeggeri del web su Mile of Crime, io sono Mile e oggi ci azzentreremo in una storia estremamente inquietante. La vicenda che vi presenterò ci porterà all'interno di una famiglia apparentemente perfetta, ma che potrebbe celare segreti oscuri e inimmaginabili. Quello che sembrava essere un paradiso domestico si è trasformato in un teatro di eventi tragici e sconvolgenti. Come sempre vi invito a condividere le vostre opinioni sul caso nei commenti qui sotto, mi fa sempre piacere sapere cosa ne pensate. Ah, se ti va, iscriviti al canale. Melissa Murphy nasce il 2 gennaio del 1981 e cresce ad Ekron, in Ohio. È figlia di Bonnie e Tim Murphy e ha una sorella di nome Valerie. Melissa frequenta le scuole locali. Dopo il diploma continua gli studi presso il West Meinster College, ottenendo successivamente un master in amministrazione aziendale al Kent State University. È un master in diritto tributario presso l'Università di Ekron. Da 18 anni lavora presso lo studio contabile Bobber Merkey Fideruch, ve lo scrivo perché non so come si pronuncia, BMF è l'acronimo, specializzandosi in dichiarazione dei redditi aziendali. Inoltre è un membro attivo delle Girl Scout nella sezione del Northeast Ohio e del Cleveland Tax Club, che è un'associazione professionale che riunisce esperti fiscali nell'area di Cleveland. Partecipa con entusiasmo ai programmi educativi, alle attività all'aperto e ai progetti di volontariato delle Girl Scouts, sviluppando abilità importanti per la crescita personale e il contributo della comunità. Nel Cleveland Tax Club partecipa a incontri e seminari per rimanere aggiornata sulle ultime novità in materia di imposte e regolamenti fiscali, sfruttando anche l'opportunità di networking con altri professionisti del settore. Viene premiata con il Gritter Ekron Chamber 30 for the Future, riconoscimento assegnato ai giovani professionisti emergenti sotto i 30 anni che hanno dimostrato leadership, impatto professionale e impegno nella comunità. Inoltre ha ricevuto il prestigioso premio Woman of Professional Excellence, che onora le donne per la loro eccellenza professionale e il contributo significativo alla loro professione e alla comunità. Invece nel tempo libero, Melissa ama passeggiare con i suoi cani e mantenersi attiva, apprezzando i benefici fisici e mentali delle attività all'aperto. È profondamente dedicata alla sua famiglia e al servizio alla comunità, partecipando attivamente a organizzazioni locali, eventi comunitari e offrendo il proprio tempo e competenze per aiutare gli altri. Come abbiamo visto, Melissa nel corso della sua carriera riceve numerosi riconoscimenti e premi per i suoi successi professionali e nel giugno del 2023 ottiene un'ulteriore soddisfazione diventando partner dello studio in cui lavora. Jason Dunham invece nasce il 24 febbraio del 1977. Non abbiamo informazioni sulla sua infanzia, ma sappiamo che dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio, inizia la sua carriera come consulente autonomo nel campo delle vendite e dello sviluppo commerciale. Fornisce consulenze specialistiche a diverse aziende dell'Ohio. Nel 2023 Melissa e Jason Dunham hanno rispettivamente 42 e 46 anni e sono sposati dal 2000. Risiedono ad Hartville, nella contea di Stark, in Ohio. Non solo hanno molto successo nelle loro carriere, ma ora hanno anche una bella famiglia. I due hanno avuto la loro prima figlia, ora 15enne, René, nel 2008. Dopo aver avuto René, hanno avuto altri due figli, Amber, ora 12enne, e Diven, 9 anni. La loro famiglia è unita e molto impegnata. Tutti e tre i ragazzini frequentano la scuola locale di Lake, la stessa che aveva frequentato Melissa a suo tempo. Entrambe le ragazze sono estremamente attive nelle Girl Scouts, fin da piccole, partecipando con entusiasmo a tutte le attività iniziative. Even, invece, partecipa con altrettanto impegno ai Boy Scouts, dimostrando un forte spirito di gruppo. Melissa, oltre a essere volontaria con i Girl Scouts, è anche membro attivo, dedicando molto del suo tempo a supportare l'organizzazione. Ogni anno, durante il periodo della vendita dei biscotti, Melissa fa compilare alle sue figlie moduli per gli ordini dei biscotti, e successivamente le ragazze si occupano della consegna e della scrittura delle lettere di ringraziamento per tutti gli acquirenti. I ragazzi non si limitano solo ai Girl Scouts e ai Boy Scouts. Tutti e tre sono membri della squadra di nuoto Lake AMCA Titan, dove dimostrano di essere eccellenti nuotatori. René, con il suo talento musicale, partecipa anche alla banda musicale e alla band jazz della scuola, mentre Amber è coinvolta sia nella banda che nella corsa campestre, cross country runner. Una disciplina impegnativa che richiede resistenza, velocità e determinazione, e Amber eccelle in questa attività, partecipando regolarmente a competizioni e allenamenti intensivi. È evidente che le loro numerose attività occupano gran parte del loro tempo e impegno costante in una vasta gamma di attività extrascolastiche. Ma i ragazzi hanno anche i loro hobby e altre attività che amano svolgere. René, ad esempio, ama leggere, giocare ai videogiochi, disegnare ed è un po' un maschiaccio e lei si occupa di tutti i lavori di giardinaggio della loro casa. Mentre Amber adora i lustrini, le paillettes e i glitter, creare moda e fare dolci che spesso offre ai vicini di casa. Haven invece è un appassionato dei lego, di baseball, di videogiochi, leggere ed è anche molto bravo con il cubo di Rubik che riesce a risolvere in due minuti, il che è davvero incredibile. Cioè io per ricomporlo staccavo direttamente gli adesivi e li ricomponevo. Insomma, lui è un genietto. I ragazzi adorano anche i loro due cani, Werder e Tank, e i loro due gatti. I cani sono sempre con loro. Quando i ragazzi sono fuori, i cani li accompagnano e giocano sempre insieme a loro. Questo succede quotidianamente, adorano stare all'aperto, andare in scooter, giocare a basket e fare tutte le attività che i ragazzi amano fare all'aperto. Ma un giorno il vicinato nota che da un po' di tempo non si vede più nessuno, né i ragazzi, né Melissa e Jason. Il che appare un po' strano e preoccupante. Giovedì 24 agosto 2023, la polizia viene chiamata presso la casa per effettuare un controllo del benessere della famiglia, intorno alle 19.30. In America lo chiamano così controllo del benessere, in Italia non credo. Comunque, la polizia viene allertata perché Melissa manca dal lavoro da due giorni, senza dare motivazioni. Una collega di Melissa inizia a preoccuparsi e molto, perché questo comportamento è davvero insolito per lei. Lei tiene molto la sua carriera ed è una lavoratrice molto affidabile, come dimostra la sua recente promozione a partner dello studio. E anche i bambini non si presentano a scuola da due giorni. Non sapendo cosa stia succedendo e non ricevendo risposta alle sue telefonate, è proprio la collega di Melissa a richiedere un controllo del benessere alla polizia. E quando la polizia arriva nota subito alcuni dettagli inquietanti. Entrambe le auto sono parcheggiate nel vialetto. La posta non è stata ritirata e ci sono dei pacchi che stazionano sul portico. Questi segni indicano che qualcosa non va. La preoccupazione cresce tra gli agenti. Fortunatamente un vicino offre il suo aiuto. Il vicino, di nome Edmond, conosce Melissa e Jason da oltre 17 anni. Ricorda chiaramente quando la coppia si è trasferita nella casa, prima ancora di avere figli. Lui e sua moglie hanno sviluppato un legame stretto con tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici. Edmond chiede alla polizia di lasciarlo entrare per primo, sapendo che i cani lo riconosceranno e non si agiteranno alla sua vista. La sua familiarità con la casa e i suoi abitanti è cruciale per capire cosa stia succedendo. Una volta dentro Edmond e gli agenti si trovano di fronte a una scena terribile. Un agente descriverà successivamente ciò che vedono come la peggior scena che abbia mai incontrato nei suoi 23 anni di carriera nelle forze dell'ordine. Quando entrano nella casa trovano una scena raccapricciante e tragica. Tutti e cinque i membri della famiglia sono ormai morti. Si trovano nelle loro camere e hanno evidenti ferite d'arma da fuoco. Gli agenti ipotizzano immediatamente che Melissa, Jason, René, Amber ed Evan sono stati colpiti a morte dopo una probabile disputa domestica, in quanto non ci sono segni di effrazione. La casa è perfettamente in ordine e ci sono molti oggetti di valore al loro posto. Non è stato rubato nulla. Il medico legale arrivato sulla scena colloca all'ora del decesso intorno alle 21.50. Poco dopo le 23.30 il dipartimento di polizia di Uniontown rilascia una dichiarazione ufficiale affermando che il crimine è investigato come una disputa domestica finita in omicidio-suicidio e che non si ritiene che altre persone siano coinvolte. Inizialmente nessuno sapeva esattamente cosa fosse successo, tranne che come detto sembrava essere una disputa domestica culminata in omicidio-suicidio. Non si conoscevano i dettagli di chi fosse stato il responsabile né tantomeno l'identità delle persone coinvolte. Quasi 11 ore dopo la polizia ha rilasciato una dichiarazione aggiornata rivelando i nomi delle vittime e confermando che erano tutte morte per ferite d'arma da fuoco. Si sapeva che sia Melissa che Jason avevano un regolare porto d'armi e che ne possedessero. Tuttavia inizialmente le forze dell'ordine non avevano specificato chi si ritenesse avesse sparato. Durante quel fine settimana viene reso pubblico che l'arma utilizzata nella sparatoria apparteneva a Jason e che la sua ferita d'arma da fuoco era compatibile con il suicidio. Quindi sembra proprio che Jason abbia sparato a ciascun membro della sua famiglia prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Trapele inoltre che i ragazzi e Melissa avessero ferite multiple d'arma da fuoco mentre Jason ne aveva solo una. Ma riguardo a questo non ci sono conferme ufficiali. La notizia si è rapidamente diffusa nella comunità che è estremamente unita e questo è uno dei motivi per cui Melissa amava crescere i suoi figli lì in quel luogo. Le persone hanno quindi iniziato a chiedersi perché Jason avrebbe fatto una cosa del genere. A essere onesti l'unica dichiarazione pubblica su Jason è stata fatta da Edmund. Il vicino Edmund ha detto che Jason era un uomo molto gentile ma controllante. Tuttavia sappiamo che essere controllante non significa automaticamente che qualcuno diventerà un assassino o ucciderà la propria famiglia e i propri figli. Questo ha portato molte persone a chiedersi cosa stesse realmente accadendo dentro quella casa specialmente dal momento che i bambini erano stati visti fuori casa molto meno frequentemente negli ultimi tempi. Potrebbe essere stato un divorzio imminente? Era solo una tipica lite di coppia e Jason ha perso il controllo? Oppure c'era qualche altra motivazione nascosta dietro questo tragico evento? L'indagine è stata archiviata come omicidio suicidio nonostante il fatto che non ci fossero mai state chiamate alla polizia in precedenza il che rende la situazione ancora più sconcertante. Non c'erano mai stati segnali d'allarme nessuno aveva mai sentito la coppia litigare e non erano mai stati segnalati di sapori. Di conseguenza tutti cercano di razionalizzare e mettere insieme i pezzi per comprendere come e perché questa tragedia sia avvenuta. La comunità è profondamente sconvolta da quanto è accaduto. In un'intervista Edmund, il vicino di casa, parla dei bambini e dice Li conoscevo sin dalla nascita e vederli crescere è stato un privilegio. È straziante assistere a questa tragedia. Erano persone straordinarie, sempre pronte ad aiutare la comunità e formavano una famiglia meravigliosa. Sentivamo che facevano parte della nostra famiglia. Diversi post su Facebook parlano di Melissa e dei suoi figli, evidenziando l'impatto positivo che hanno avuto sulla comunità. Melissa e i suoi figli erano persone incredibilmente gentili e amorevoli ed è davvero straziante vedere il dolore di coloro che li hanno conosciuti e amati. La loro perdita ha lasciato un vuoto immenso nel loro cuore. Come ho detto prima, René era un membro della banda musicale della scuola superiore e avrebbe dovuto partecipare a un evento fuori città quel venerdì sera. Il sovrintendente del distretto scolastico ha parlato della tragedia, sottolineando come la banda sia una vera e propria famiglia. Circa due anni fa, proprio nella stessa data, avevano già perso un altro membro della banda a seguito di un intervento chirurgico. Questa nuova perdita colpisce profondamente tutti loro e il sovrintendente riconosce che sarà estremamente difficile per gli studenti. Per affrontare questa situazione, il distretto scolastico ha attivato una squadra di risposta alla crisi, composta da consulenti e professionisti della salute mentale. Questa squadra si è incontrata con studenti e personale per aiutarli a gestire una perdita così grande. Molti membri della comunità hanno cambiato le loro foto profilo in questo cuore, in segno di supporto per la famiglia Dunham. Le ragazze in particolare sembravano avere alcuni amici molto stretti, specialmente nel nuoto e delle Girl Scouts. Questi ragazzi erano davvero popolari e il cordoglio di tutti i giovani che li hanno conosciuti è ampiamente espresso sui social. Il giorno sabato 26 è stata organizzata una fiaccolata in onore della famiglia. All'evento hanno partecipato numerose persone, inclusi i membri delle Girl Scout e dei Boy Scout, a cui appartenevano i ragazzi, oltre a molti amici. Le ragazze Girl Scout hanno avviato una raccolta di quadratini di stoffa con parole di incoraggiamento, ricordi e disegni dei membri della comunità. L'intenzione era di assemblare questi quadrati per creare una coperta speciale da donare alla famiglia di Melissa, come segno di solidarietà e affetto. Il lunedì seguente un membro della famiglia di Melissa ha condiviso il necrologio per Melissa e i suoi bambini. Nel post su Facebook e nel necrologio non c'è stata alcuna menzione a Jason. Probabilmente la famiglia di Melissa ha scelto di distanziarsi completamente da lui e onestamente chi potrebbe biasimarli. La decisione di escludere Jason potrebbe riflettere il desiderio di proteggere la memoria di Melissa e dei suoi figli, evitando di associare il loro ricordo a una figura controversa e negativa. Se qualcuno se lo sta chiedendo, la famiglia di Melissa si è mobilitata anche per cercare una nuova famiglia per i cani e i gatti sopravvissuti alla strage. Inizialmente un vicino si era offerto di prendere i cani, ma poi non era andata a buon fine. O forse la famiglia di Melissa ha preferito tenere gli animali lontani da casa dopo aver perso tutti i loro cari in una volta sola. Infatti successivamente è stato aggiornato il post scrivendo che i genitori di Melissa avevano trovato alcune potenziali nuove famiglie, nella speranza di trovare per loro delle ottime famiglie. Penso anche a questo aspetto di questa drammatica vicenda. L'amore di un animale è esclusivo. Chissà che dolore hanno provato anche loro. Di Jason non se ne parla in nessuna delle fonti. Non ho trovato neppure il necrologio, ma immagino che anche la famiglia di Jason stia patendo le stesse identiche pene della famiglia di Melissa. Perdere una persona è già difficile per chiunque. Perdere un'intera famiglia in una volta sola va oltre il tragico. Questo caso è estremamente interessante perché sebbene sia straziante di per sé, mi fa riflettere su una crescente tendenza. Non so se sono diventata più consapevole di queste situazioni, ma mi sono resa conto che in America c'è un caso di paricidio quasi ogni settimana. La maggior parte di questi crimini normalmente avviene a causa di dispute domestiche, dove un coniuge nutre rancore verso l'altro e decide di punirlo in modo estremo. Tuttavia mi sembra di capire che ultimamente emerge un elemento completamente diverso. Alcuni genitori sembrano credere che togliendo la vita ai propri figli li stiano proteggendo da qualche pericolo percepito o minaccia immaginaria. Cioè non si tratta solo di vendetta o punizione, che sono i motivi più comuni e tipici. Ora c'è questo nuovo elemento in cui le persone credono di dover salvare i propri figli e di essere chiamati a farlo in questo modo ed è davvero spaventoso da considerare. Non sto dicendo che questo sia il caso, perché non è emerso niente di così eclatante che lo possa dimostrare, anche se qualche elemento lo suggerisce. Come il fatto che i ragazzi negli ultimi tempi non si vedessero più giocare con i cani fuori dal giardino. I vicini di casa lo hanno notato subito. Qualcosa stava succedendo, era evidente. Io penso che Jason sia caduto vittima di qualche crisi psicotica. Un po' come abbiamo visto nel caso di Andrea Yetis. Vi ricordate? Se vi siete persi il video e vi interessa scrivo il link qui sotto nel box informazioni oppure posso anche mettere il video cliccabile direttamente a fine video. Comunque questa idea mi inquieta profondamente. Qualsiasi situazione in cui qualcuno si sente chiamato a togliere la vita a un altro come mezzo di salvezza e protezione mi spaventa davvero. Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni su questo argomento. Credete che siamo diventati più consapevoli e ipersensibili a questi tipi di casi perché i media li riportano molto di più rispetto al passato? Oppure pensate che ci sia effettivamente un aumento di questo tipo di casi nella società? Ogni volta che trattiamo un caso del genere è straziante e ogni volta è come un pugno nello stomaco e purtroppo non sono rari. So che sto divagando un po', sto solo cercando di comprendere tutto perché come zia, come essere umano, come qualcuno che parla di true crime con voi è davvero inquietante e straziante. Comunque scusate ma sentivo davvero il bisogno di condividere i miei pensieri con voi e sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Grazie mille per essere stati qui con me oggi. So che questo argomento è stato difficile da ascoltare, non è mai facile e quindi apprezzo tantissimo che siate rimasti fino alla fine. Ora vi saluto, se vi va regalatemi un like. Ciao, ci vediamo al prossimo miglio. Ciao. 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 Ciao.